Lungo il Tevere 2015, inizia anche quest'estate all'insegno del divertimento, della bella musica e cos'altro? Quali sono le novità di quest'anno? Innanzitutto quest'anno penso sia stato raggiunto finalmente il livello che volevamo, e da quando abbiamo cominciato 13 anni fa, perché questa qui è la tredicesima edizione di Lungo il Tevere Roma, e la proposta culturale, di attività culturali, credo che sia arrivata per il momento all'apice. Si può fare sempre di meglio, però quest'anno abbiamo l'Accademia di Santa Cecilia, l'Accademia delle Belle Arti, l'Accademia dello Spettacolo e l'Istituto Superiore di Fotografia. Sono tutte realtà che operano sul territorio di Roma e che servono ai giovani a far capire che ci sono alternative alla movida da sballo, ma che c'è una proposta alternativa anche nei luoghi del centro storico. Diciamo che in qualche modo, se posso usare un termine un po' forte, li vogliamo aggredire. Chi passeggerà qui, perché la manifestazione è ingresso completamente gratuito, chi si troverà qui a passeggiare potrà vedere le mostre di Alba González, Karen Thomas e Mezzacapo, che sono pittori importantissimi, e ascoltare la musica classica e il teatro di tantissime compagnie di giovani. E l'ultima nota, che mi tengo sempre per ultima, quando cerco di spiegare il vasto mondo di lungo il Tevere Roma, perché è un chilometro di attività culturali e di commerciali, tra cui ristoranti, quella è la solita formula che permette poi di investire sulla cultura. Abbiamo il centro missionario dei Francescani, abbiamo cominciato l'anno scorso, su richiesta di Papa Francesco, che voleva avvicinarsi ai giovani il più possibile, e ha scelto le banchine del Tevere, ci ha chiesto di essere ospitato, come dire di no mi viene abbattuta, e abbiamo dedicato uno stand dove i Francescani raccontano le loro missioni in tutto il mondo. Quindi un cartellone ricco di eventi all'insegna della convivialità e anche del momento un po' di svago, un po' più impegnato. L'afflusso di turisti stranieri immagino sia comunque elevato come ogni anno. Vogliamo ricordare le date fino a quando si terrà lungo il Tevere? Allora, lungo il Tevere Roma inizia il venerdì 12 giugno e termina il 31 agosto del 2015. Le due date che ci teniamo a sottolineare all'interno di questi tre mesi, in cui si svolgono ogni sera attività culturali in ogni spazio diverso, è fondamentalmente e in particolare quella del 7 luglio. Il 7 luglio qui, nello spazio teatro, ci sarà un torneo di biliardino di beneficenza con piccolo spettacolo annesso per raccogliere fondi a favore di un'associazione che si chiama la Cicogna Frettolosa, che letteralmente salva i bambini nati prematuri. Avremo ospiti i bambini prematuri salvati nel corso di questi anni da questo reparto del Fatebene Fratelli. Il nostro obiettivo è quello di comprare dei macchinari che servono sempre ai bambini che nasceranno prematuri a salvare proprio le loro vite ed aiutarli a superare quel momento difficile e avremo degli ospiti VIP, tra cui un po' il padrino della serata sarà Andy Luotto, che è il cuoco della manifestazione ufficiale che gira per ristoranti a cucinare e sarà anche il padrino della manifestazione. In più avremo tanti altri nomi che piano piano si alternano a giocare a biliardino con i bambini per beneficenza.